Abbiamo prove che il più grande dei pittori impressionisti, il francese Edgar Degas, ha vissuto per tanti anni a Cicerale e ha fatto una gran parte delle opere. Tutta la ritrattistica l'ha realizzata a Cicerale. E' con grande entusiasmo che il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, annuncia la notizia. Stiamo realizzando una grande iniziativa, una grande opera che durerà per i prossimi decenni perché apriremo un museo open air, un museo all'aria aperta en plein air con grandi opere del nuovo impressionismo. Ci stiamo già lavorando ma credo che per primavera Covid permettendo saremo pronti per inaugurare questa nuova e grande iniziativa. Un museo in onore e in ricordo di Edgar Degas rappresenterebbe una grande opportunità per il paese cilentano, continua il sindaco. Sarebbe un ulteriore modo per far conoscere un piccolo centro che oggi conta 1.202 abitanti. Le sue tradizioni e tutto ciò che esso offre. L'antico borgo del Basso Cilento sorge lungo il versante di una collina e si erge sul corso alto dell'Alento, circondato da una vegetazione tipica della macchia mediterranea. A Cicerale è possibile immergersi nella natura dove sono stati realizzati vari sentieri come dal letto del fiume Alento al feudo di Corbella, località di importantissima rilevanza storico-ambientale definita nell'antichità la Porta del Cilento. Sia nel capoluogo sia nella frazione Monte si possono ammirare i centri storici caratterizzati da diversi palazzi e chiese, oltre che degustare il loro prodotto tipico, i ceci, prodotto biologico e presidio slow food. L'impronta del pittore francese non solo potrebbe dar risalto ancora di più a un paese pieno di risorse, ma offrire numerose opportunità lavorative, puntare sulla didattica come visite guidate con le scuole e le università, dar spazio a studiosi e ricercatori, ma anche agli artisti locali. Potrebbe dunque fungere dal luogo di cultura per tutti i concittadini, ma anche rappresentare un attrattore turistico per i paesi più lontani, italiani e stranieri. Ricordiamo che il Cilento resta tra le mete più ambite del nostro paese.